Buonasera, ben trovati. Allora vi dico subito che si è consumato anche oggi, nonostante sia sabato, per fortuna fuori dalle aule del Parlamento, così non abbiamo dovuto assistere a quelle scene piuttosto indegne a cui abbiamo assistito due giorni fa. Lo scontro politico sul tema più caldo di questa settimana parlamentare, cioè lo ius soli, il diritto di acquisire la cittadinanza, la nazionalità per diritto di nascita e non solo di parentela, cioè lo ius sanguinis. Si è questo scontro consumato anche oggi e vi dico subito che le posizioni sono rimaste molto distanti, non ci si è avvicinato, sono state chiarite. Da una parte Grillo ha spiegato il perché, la motivazione per cui il Movimento 5 Stelle si è assenuto su questa legge, ha definito la legge sullo ius soli un pastrocchio invotabile, queste parole letterali. Mentre dall'altra parte il Presidente del Consiglio Gentiloni ha ribadito quella che è la linea dell'esecutivo, ha detto che è un atto di civiltà concedere la cittadinanza, la nazionalità, i bambini e i bimbi che sono nati e cresciuti nel nostro Paese. Ora è evidente che questo tema è estremamente delicato, un tema su cui ci si gioca anche il confronto elettorale in vista delle prossime elezioni, le posizioni così dure, così aspre, dei diversi schieramenti lo dicono in maniera molto chiara, perché il diritto alla cittadinanza va a toccare un nervo scoperto molto delicato che è quello della comunità, del senso di appartenenza e dunque crea reazioni appunto molto forti anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni. Così come l'altro tema importante di cui si discute in queste ore è il tema delicato del mondo del lavoro. Oggi è stata organizzata a Roma una manifestazione dei sindacati contro i cosiddetti nuovi voucher e la leader della CGL Camusso ha usato parole molto dure, non soltanto perché considera i nuovi voucher un istituto che cristallizza in qualche modo il lavoro precario e dunque vanno per questo combattuti, ma soprattutto le parole dure la Camusso le ha usate nei confronti del governo per il sistema, la procedura con cui l'esecutivo ha di fatto reintrodotto un istituto che aveva invece inizialmente cancellato proprio per evitare quel referendum che la CGL aveva convocato raccogliendo un milione di firme per cancellarli. Dunque ha detto è un attacco alla democrazia, annunciato addirittura ricorso alla Corte per questo. Insomma è evidente in un clima abbastanza infuocato politicamente, un clima pre-elettorale, tanto che si continua a discutere anche di un altro tema molto caldo che potrebbe essere un tema sogliare di svolta, cioè le regole che determinano il diritto allo sciopero. Anche di questo parleremo nel telegiornale, come appunto fu nel 90 con l'applicazione della legge 146. Poi per quanto riguarda notizie dall'estero, innanzitutto Londra, purtroppo la polizia britannica dopo il rogo della torre del grattacielo ha ammesso che il numero delle vittime è assai più alto di quello che si era detto finora. Ma il dolore per questa tragedia ha raggiunto lo scontro politico, perché è sotto attacco soprattutto un certo tipo di politica, la politica che ha fatto risparmi in testa alla sicurezza e per questo ci sono state manifestazioni anche oggi di protesta nei confronti della Premier Teresa May che cercando in qualche modo di creare una sorta di empatia che fino a questo momento non è riuscita a creare politicamente ha ricevuto a Downing Street un gruppo di parenti delle vittime e di manifestanti. Ma torneremo anche su un altro tema, cioè sul tema dell'ISIS, perché il sedicente Stato Islamico che è evidentemente in difficoltà dal punto di vista militare, oggi ha subito un'altra, l'ennesima sconfitta ma su un altro fronte, non quello del Sirac. In Afghanistan è stato riconquistato dalle truppe afghane, uno dei luoghi che è stato simbolico soprattutto nei primi anni del 2000, il Roccoforte di Tora Bora. E poi c'è una storia da Casaldi Principe che vi dobbiamo raccontare, vi aspetto per questo ed altro tra 30 secondi con i titoli. Lo Ius Soli è un atto doveroso e di civiltà, l'ha detto il Premier Gentiloni augurandosi che il Parlamento approvi presto la legge. Un provvedimento che Grillo invece dal suo blog definisce un pastrocchio invotabile, mentre il leader della Lega Salvini annuncia la raccolta di firme per un referendum che cancelli la legge su quelle che definisce cittadinanze facili. In decine di migliaia in piazza con la CGL contro gli eredi dei voucher, il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale. E' uno schiaffo alla democrazia, una nuova forma di precarietà attacca Susanna Camusso che dal palco annuncia ricorreremo alla corte, continueremo a vigilare per il rispetto delle regole. Il bersaglio è sbagliato, questa è la replica del governo. Per certi lavori le norme sono necessarie. E servono nuove regole per gli scioperi nei trasporti. Il paese non può essere ostaggio di minoranze, tocca al Parlamento intervenire. Così il ministro dei trasporti, Graziano Del Rio, dopo il venerdì nero che ha paralizzato Roma ma molte altre grandi città italiane, riaprendo la polemica sulle modalità degli scioperi. Il leader della FIOM, Landini, però avverte il problema, non sono gli scioperi ma i pochi accordi. Il candidato sindaco di Trapani, Girolamo Fazio, è decaduto dal ballottaggio del 25 giugno per non aver presentato entro i termini di legge la lista degli assessori. Fazio, che ha indagato per corruzione e traffico di influenze, aveva invitato gli elettori a non votarlo, poi si era dimesso da deputato regionale. Adesso il suo avversario, che è Pietro Savona, del Partito Democratico, per essere eletto avrà bisogno di un'affluenza alle urne che superi il 50% e del 25% almeno di consensi del corpo elettorale. La polizia britannica ha annunciato che per le 58 persone disperse nell'incendio della Grenfell Tower non ci sono più speranze. Ci vorranno mesi per identificare tutte le vittime. La Premier May promette un'inchiesta pubblica, trasparente, però ammette che l'appoggio alle famiglie delle vittime è stato insufficiente. La regina Elisabetta, nel giorno delle celebrazioni del suo compleanno, sottolinea il cupo umore della nazione. Buonasera, di nuovo ben ritrovati. Dunque, diciamo la verità, è da circa 13 anni che in Parlamento si cerca di discutere di cittadinanza per superare quello che è il diritto fino a questo momento acquisito, cioè quello ius sanguinis che permette a chi è in Italia e che è figlio di genitori italiani di ottenere la cittadinanza italiana. Questo la dice lunga, il lungo tempo la dice lunga sulla difficoltà di trovare un punto di caduta tra le diverse forze politiche. La qualcosa si è plasticamente confermata in quello scontro, anche forte, violento, in aula che c'è stato due giorni fa. Oggi questo scontro è continuato tra le diverse anime politiche, naturalmente a distanza, essendo il Parlamento chiuso, ma le posizioni sono rimaste assolutamente inconcilianti. È arrivato il tempo di poter considerare a tutti gli effetti questi bambini come cittadini italiani. Glielo dobbiamo. È un atto doveroso e di civiltà. Mi auguro che il Parlamento lo faccia presto, nelle prossime settimane. Paolo Gentiloni, ospite di una manifestazione organizzata dal quotidiano La Repubblica, conferma la posizione del Governo sulla nuova legge per lo ius soli, che dopo il voto per i ballottaggi tornerà in aula al Senato. La Camera l'ha già approvato. Per il Premier, dunque, non ci sono tentennamenti o ripensamenti, ed è una risposta anche alla richiesta di una pausa di riflessione, arrivata dal suo maggior alleato, il leader di Alternativa Popolare, Angelino Alfano. Non è una buona idea offrire argomenti agli estremisti, non è il momento giusto per lo ius soli, prova a frenare il ministro degli esteri. La volontà di andare avanti, comunque, è ribadita in maniera ancora più precisa dal ministro dell'Interno. Secondo Marco Minniti, quelli che chiudono le porte sono cattivi maestri, e i cattivi maestri non vanno seguiti, i bambini stranieri nati in Italia, aggiunge, sono bambini italiani, pensano in italiano, parlano in italiano, vanno a scuola in Italia. Tifano per squadre italiane, tutto ciò non c'entra con la paura. Sul tema dello ius soli si gioca la partita dell'immigrazione, che non è uguale al terrorismo. Le opposizioni, però, restano sul piede di guerra, come si è già visto al Senato. Sono tutti per il no, ad eccezione di sinistra italiana. In prima fila, opporsi alzando i toni, oggi rimane il Movimento 5 Stelle. Sul blog, Beppe Grillo torna all'attacco, conferma l'astenzione al Senato sulla legge, ma a Palazzo Madama è come votare contro, e il giudizio sul provvedimento è una bocciatura senza appello. Trattasi non di legge, scrive Grillo, ma di un pastrocchio invotabile. Meglio occuparsi degli italiani, sostengono i 5 Stelle, riprendendo un argomento caro alla Lega di Salvini. Il capo del carroccio, Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, sono pronti a raccogliere le firme per presentare un referendum abrogativo. È ora di finirla con tutto questo buonismo ipocrita che vuole svendere la cittadinanza, spiega Salvini. E anche Maurizio Gasparri, di Forza Italia, è duro. Pensiamo sia una follia dare priorità a questo provvedimento, dice. È sbagliato anche nel merito? La legge sullo Iusoli va bloccata assolutamente, perché contro l'Italia ci sono altre priorità. E' evidente che negli ultimi anni, per un misunderstanding, cioè per il fatto di confondere lo Iusoli con il concetto, il problema dell'immigrazione, si giocano le partite elettorali su questo tema. E lo scontro è così aspro anche e soprattutto per questo. Ma c'è un altro tema di discussione in queste ore, che in qualche modo ha diviso anche all'interno del mondo della sinistra le diverse posizioni. E' la reintroduzione da parte del Governo dei cosiddetti nuovi voucher, cioè dei provvedimenti, degli istituti che permettono di far lavorare delle persone in maniera temporanea, a prestazioni occasionali. I vecchi voucher erano stati cancellati dopo la convocazione di un referendum da parte della CGL con relativa raccolta di firme, ma sono rientrati peraltro in un provvedimento che in qualche modo c'entrava poco con il lavoro, perché era un disegno di legge relativo a materie finanziarie ed economiche, quello che ha approvato la manovrina. Proprio per questo la CGL ha convocato, gli altri sindacati hanno convocato una manifestazione di piazza oggi a Roma, alla quale hanno aderito migliaia di persone. Oggi siamo noi che gridiamo allo schiaffo contro la democrazia. Susanna Camusso definisce così la reintroduzione dei voucher, buoni lavoro per la retribuzione delle prestazioni occasionali, perché, spiega, lo schiaffo è stato dato dal governo e dal Parlamento alle regole costituzionali. La CGL scende in piazza a Roma e sotto il simbolo di una mano rossa aperta chiama a raccolta migliaia di persone per protestare. Due cortè diversi, partiti l'uno da Piazza della Repubblica, l'altro da Piazza dell'Ostiense, che si sono poi uniti in piazza San Giovanni, luogo da sempre delle manifestazioni dei lavoratori e del tradizionale concerto del primo maggio. I sindacati accusano Palazzo Chigi di avere prima abrogato con un decreto i voucher per scongiurare un referendum per il quale erano state già raccolte a sostegno oltre un milione di firme e poi di averli nuovamente introdotti attraverso la cosiddetta manovrina. Un veicolo un po' clandestino, ironizza la Camusso, che punta il dito contro il governo. Avete cambiato il loro nome, ma non la schifezza che sono, attacca la leader sindacale. Parole dure che provocano la replica immediata del Presidente del Consiglio. rispetto questa posizione, ma non la condivido perché contro le decisioni assunte dal governo, risponde da Bologna il Premier Paolo Gentiloni, che poi si chiede se c'è davvero qualcuno che pensa che questi lavori non avessero bisogno di regole. Ancora una volta dunque Cigelle e governo si trovano a fronteggiarsi. In mezzo ci sono disoccupati, studenti e pensionati, categorie direttamente coinvolte dall'utilizzo dei contestati buoni lavoro che dovrebbero contribuire a risolvere il tema delicato della precarietà. Ma secondo la Camusso si racconta che è un contratto, mentre invece è una transazione economica che non prevede nessun diritto per i lavoratori. La nostra battaglia non finisce qui, fa sapere dal palco la leader della Cigelle che annuncia che contro la reintroduzione dei buoni lavoro sono state già raccolte più di 150.000 firme e di volere ricorrere alla Corte Costituzionale dal Presidente della Repubblica perché, spiega, siamo di fronte ad un'esplicita violazione della Costituzione. Naturalmente un altro tema che è legato in qualche modo anche al lavoro è il cosiddetto diritto allo sciopero. Un tema estremamente delicato perché ieri chiunque di voi avrà seguito in diverse città italiane la paralisi che è stata provocata per lo sciopero dei trasporti non soltanto Roma ma anche Milano e le altre grandi città italiane. Si è aperto un dibattito nel quale sostanzialmente si sono schierati tutti contro tutti i leader dei partiti contro i sindaci e gli amministratori locali nel quale è intervenuto anche il garante per il diritto di sciopero il quale ha sostanzialmente detto che lo sciopero di ieri era legittimo perché aveva seguito le regole previste dalla famosa legge 146 del 90 appunto che ha disciplinato lo sciopero dopo gli anni del cosiddetto sciopero selvaggio degli anni 80 in cui lo scontro sociale era molto forte. Però, ha detto anche il garante, forse è arrivato il momento che queste regole siano cambiate e variate perché non sono più attuabili, praticabili. È del tutto evidente che la questione è estremamente delicata perché lo sciopero di per sé nasce per creare disagio dunque una sua regolamentazione è una cosa particolarmente difficile da portare avanti. Nuove regole per gli scioperi pubblici dopo l'ennesimo venerdì nero ieri nei trasporti italiani. Paolo Gentiloni non si spinge oltre un probabilmente ci sarà spazio in Parlamento per una regolamentazione. La legislatura ha tempi ormai stretti e il governo con il ministro dei trasporti, Graziano Del Rio rilancia la palla al Parlamento unico organo adatto di fronte a un esecutivo debole sembra intendere ad occuparsi di un tema tanto delicato. Il rischio insomma è che non se ne faccia nulla se non alimentare le polemiche. In Senato giacciono dal 2015 le proposte di Piero Echino e di Maurizio Sacconi che vorrebbero autorizzare gli scioperi solo quando a proclamarli sono sigle sindacali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori altrimenti sarebbe previsto un referendum preventivo come in Germania e in altri paesi europei. Sacconi oltre al referendum vorrebbe l'obbligo di dichiarazione anticipata di adesione da parte dei lavoratori. Entrambi accusano l'ex premier Matteo Renzi che ieri ha parlato di scandalo per un paese ostaggio di minoranze sindacali e ha messo l'insolvenza del suo governo di aver bloccato l'iniziativa alla vigilia del referendum costituzionale. Del Rio ora si è detto pronto a discuterne così come una parte del sindacato confederale con la leader Cisla Anna Maria Furlan meno di elegante la CGL. Io credo che il problema dovrebbe essere che questo governo capisse che deve fare gli accordi con il sindacato perché quando ci si opera vuol dire che non è stato possibile trovare degli accordi e soprattutto addirittura nel settore pubblico dove gli si operi devono essere proclamati mesi prima vuol dire che c'è il tempo per poter fare gli accordi e le trattative. C'è da aggiungere che quello di ieri che ha paralizzato Roma ha creato problemi a Milano e dimezzato i voli di un Alitalia già in drammatica crisi viene additato come uno sciopero ideologico il 147esimo stop in un anno del trasporto pubblico locale contro ipotesi di privatizzazione che non sembrano attuali il 362esimo sommando anche gli scioperi dei trasporti nazionali quasi più giorni di sciopero che giorni in un anno. C'è una notizia di giudiziaria che devo darvi e che va a impattare anche severamente nelle questioni politiche perché si è saputo adesso che si sono dimessi i due rappresentanti del Tesoro nel CDA di Consip Luigi Ferrara e Maria Laura Ferrigno che hanno rassegnato le dimissioni e a seguito di questa decisione sostanzialmente decade l'intero Consiglio quindi l'unico che rimane in carica in questo momento in Consip è dall'amministratore delegato Marroni che dovrà dunque per legge convocare entro 8 giorni ecco lo vedete Marroni dovrà convocare entro 8 giorni l'assemblea dei soci per nominare il nuovo CDA naturalmente questa decisione arriva non ex abrupto è stato lo stesso Ferrara era stato sentito ieri come test presso la procura di Roma e dunque dopo la richiesta di azzeramento dei vertici da parte dei senatori del PD nell'ambito dell'inchiesta Consip Marroni era stato sentito due volte lui stesso dai pubblici ministeri come testimone aveva chiamato in causa lo ricorderete anche il ministro dello sport Luca Lotti che ha sempre però negato ogni tipo di relazione Luca Lotti che però dobbiamo ricordarlo ha indagato per rivelazione di segreto d'ufficio insieme al generale dei carabinieri Santa Lamacchia veniamo ad un'altra questione che appunto continua anche a essere legata al mondo politico in questo clima elettorale abbiamo visto durante la partecipazione la manifestazione dei sindacati la presenza di diversi esponenti della sinistra perché naturalmente in vista delle prossime elezioni soprattutto dopo il non riuscito tentativo di approvazione della legge cosiddetta alla tedesca si è riaperta la partita delle alleanze degli apparentiamenti quindi si sta in qualche modo cercando di concretizzare una sorta di raggruppamento di sinistra o del centro-sinistra che non è ancora chiaro se sia alternativo o in opposizione al segretario del PD Renzi e spesso si è evocato in questi giorni nonostante lui stesso abbia smentito come Deus Ex Machina Romano Prodi che dovrebbe essere un po' il nume tutelare di questo schieramento però in realtà non sono ancora chiari le relazioni appunto tra questo eventuale listone e il Partito Democratico anzi a dire la verità non è chiaro nemmeno se esisterà davvero questo listone perché a sentire Bersani non si tratta di questo Buona parte della sinistra fuori dal PD è in piazza con la CGL Sinistra italiana e articolo 1 il movimento dei democratici e progressisti su tutti la manifestazione contro la reintroduzione dei voucher è il luogo in cui si ritrovano molti dei potenziali azionisti del centro-sinistra alternativo al Partito Democratico che Giuliano Pisapia vorrebbe mettere insieme dagli ulivisti delusi alla sinistra legata al sindacato Io mi fido di Pisapia penso che il suo contributo sia indispensabile per costruire un'alternativa larga di centro-sinistra alle politiche sbagliate di questi anni Non rinuncio alla credibilità in nome dell'unità ho questa proposta in grado di riconquistare un rapporto con questo popolo per esempio di battersi fino in fondo contro i voucher di rimettere al centro il lavoro la ridistribuzione la lotta la diseguaglianza oppure l'unità rischia di essere una formula vuota Pisapia non c'è per un impegno precedente manda un messaggio di sostegno alla CGL e un messaggio di solidarietà lui invia anche Massimo D'Alema cantiere aperto ed ai confini incerti quello del campo progressista di Pisapia ancora in attesa di una pubblica benedizione di Romano Prodi il professore rassicurato Matteo Renzi nell'incontro di due giorni fa di contendergli la leadership il felice pensionato definizione dello stesso Prodi non ha alcuna intenzione ma l'ex presidente della commissione europea è deciso a scongiurare la prospettiva delle larghe intese a lavorare per la ricostituzione di una coalizione di centro-sinistra anche con i fuori usciti dal partito democratico con cui Renzi invece non vuol più avere a che fare Pierluigi Berzani in corteo a Roma ironizza sull'idea dell'istone della società civile e associazionismo che Renzi immaginerebbe alleato del PD progetto alternativo all'assemblement cui pensa Pisapia leggo di strategie oniriche una strategia al giorno toglie il leader di torno dice l'ex segretario del PD a Bologna Romano Prodi alla Repubblica delle Idee assiste a un intervento di Enrico Letta e commenta lui è professore all'estero solo temporaneamente auspicio allusione a un possibile ritorno in campo del predecessore di Renzi a Palazzo Chigi a Bologna Prodi ha avuto un breve colloquio anche con Paolo Gentiloni che dal palco della manifestazione di Repubblica nega ambizioni di leadership future io premier dopo il voto no assicura perentorio rivendica la continuità con l'esecutivo di Renzi ma aggiunge questo governo è nato fragile ma è un programma robusto insomma sul possibile ritorno di Prodi forse qualcosa di più di un'ipotesi perché il professore sta continuando a parlare ha detto che stiamo vivendo un momento di grande tensione e con i suoi incontri si è proposto di calmare le acque non mi sono addentrato sugli uomini ha specificato dialogo non sulle persone ma sui contenuti meglio un programma di un'unione che un tweet così appunto ha ribadito quindi penso che fosse meglio un programma lungo di 262 pagine fa riferimento naturalmente al programma di allora piuttosto che un tweet insomma sembrerebbe un tentativo di dare di limitare e in qualche modo definire la sua partecipazione possibile a un incontro futuro elettorale uno scontro un incontro futuro elettorale naturalmente bisognerà definire in che termini lui potrà partecipare c'è un'altra notizia per io passare la notizia dall'estero che vi devo dare perché c'è un caos ballottaggio al comune di Trapani il candidato sindaco centrista Girolamo Fazio è decaduto dalla competizione perché non ha presentato entro i termini di legge la lista degli assessori lo ricorderete Fazio è indagato per corruzione e traffico di influenze esponente di alternativa popolare e nei giorni scorsi aveva invitato i cittadini a non votarlo e si era per questo anche dimesso da deputato regionale però adesso si apre in qualche modo un caos perché il ballottaggio che si tracomunque sia valido si devono recare alle urne almeno il 50% più uno degli elettori trapanesi e per essere eletto l'unico candidato rimasto esponente del centro-sinistra lo vedete Pietro Savona si dovrà superare il 25% dei consensi se il doppio sbarramento non fosse superato che cosa succede il comune verrà commissariato e i seggi verranno divisi in modo proporzionale dunque in qualche modo il proporzionale rientrerà dalla finestra adesso veniamo alle notizie dall'estero perché principali è quella che riguarda la tragedia che è avvenuta a Londra intanto la polizia ha ammesso che il numero delle vittime è assai superiore rispetto a quanto si era definito fino a questo momento ma soprattutto si è aperto un problema politico uno scontro politico molto forte non soltanto per la mancanza di empatia della premier inglese Teresa May che come sapete è stata travolta dalle polemiche per non aver incontrato i familiari delle vittime e i sopravvissuti ma anche per il tipo di politica una politica del rigore del risparmio a sfavore della sicurezza i vigili del fuoco sono al lavoro in quel che resta della Grenfell Tower e il loro è un compito straziante perché devono trovare tracce dei dispersi che mancano all'appello almeno 58 persone che ora anche la polizia ritiene presumibilmente morte ma il bilancio avvertono le autorità potrebbe aggravarsi e in ogni caso ci vorranno settimane se non mesi per identificare tutte le vittime al momento quelle ufficiali sono 30 tra cui Gloria Trevisan e Marco Gottardi la torre divorata dalle fiamme in pochi minuti ora scricchiola e minaccia di crollare causando ulteriori danni e per garantire la sicurezza nella zona ovest di Londra sono state chiuse molte fermate della metropolitana tra queste naturalmente anche Latimer Road la più vicina al palazzone di North Kensington nel pomeriggio Teresa May ha ricevuto a Downing Street una delegazione di sopravvissuti e familiari delle vittime un confronto diretto giunto forse fuori tempo massimo come hanno fatto notare i manifestanti arrivati nei pressi della residenza della Premier che hanno invocato le sue dimissioni immediate e chiesto verità e giustizia sul disastro la May ha riconosciuto che l'appoggio offerto alle vittime del rogo è stato inesufficiente ha promesso un'inchiesta trasparente stanziamenti e agli sfollati ha garantito una sistemazione entro tre settimane parole che difficilmente basteranno a placare la rabbia della gente che si chiede perché siano stati utilizzati al Grenfell materiali di rivestimento scadenti che hanno messo le ali alle fiamme polemiche che sono anche politiche che investono i conservatori a pochi giorni dalle fallimentari elezioni anticipate il leader laborista Corbyn incalza la May e ieri ha proposto addirittura di requisire temporaneamente le case sfitte dei ricchi londinesi salvo essere subito accusato di populismo dai Tories l'unica immune da critica è la regina che oggi prima che iniziassero le celebrazioni per il suo compleanno ha osservato un minuto di silenzio davanti a Baghegan Palace ma in precedenza aveva detto la sua e come evocando il clima cupo che ha investito il paese l'altra notizia importante riguarda il sedicente stato islamico sapete che ieri si era diffusa la notizia della possibile morte del califo Abu Bakr al Baghdadi una notizia ancora non confermata ma che secondo i dettagli potrebbe essere credibile ma nel frattempo il sedicente stato islamico dal punto di vista militare continua a subire delle sconfitte significative non soltanto nel Sirac Mosul e Raqqa che sono considerate le due capitali in questa zona del sedicente stato islamico sono praticamente quasi riconquistate ma anche in Afghanistan dove si era insediata una cellula legata all'ISIS contro queste sono le curiose dinamiche degli estremismi contro i talebani locali in una località che è stata simbolica per i primi anni del 2000 la Torabora dove si considerava fosse il quartier generale passatemi il termine dei talebani e soprattutto di Osama Bin Laden questa zona è stata oggi riconquistata e ancora un luogo simbolo polvere nera vuol dire Torabora in lingua Pashtun e nel reticolo di caverne sulle montagne dell'Afghanistan orientale nel 2001 si diceva si nascondesse col sossegno dei talebani il quartier generale di Bin Laden nel dicembre di 16 anni fa due mesi dopo l'avvio della guerra tuttora in corso a Torabora fu combattuta una delle più dure battaglie tra le forze anglo-statunitensi e le milizie di Al-Qaeda Bin Laden laggiù non fu mai trovato ma su quei monti non si è mai smesso di combattere l'esercito afghano nelle ultime ore ha ripreso il controllo della regione finita martedì scorso in mano allo Stato Islamico attraverso la sua cellula locale Khosharan i militari di Kabul stanno bonificando chilometri di tunnel minati e dopo la perdita della principale base nel paese ad Hachin colpita il 13 aprile scorso dagli americani con la cosiddetta superbomba per l'ISIS anche l'Afghanistan diventa terra di ripetute sconfitte in evidente difficoltà su più fronti ieri il sedicente Stato Islamico ha tentato anche di rivendicare il duplice assalto di Gerusalemme con lo accoltellamento mortale di una soldatessa israeliana e l'uccisione di tre palestinesi l'ISIS non c'entra nulla ha smentito l'esercito ebraico a rivendicare invece è stata Hamas Al-Fatah il partito di Abu Mazen ha condannato ma oggi il governo israeliano ha revocato 25.000 visti d'ingresso ai cittadini palestinesi concessi per il Ramadan il premier Netanyahu ha deciso di abolire i permessi di lavoro per i congiunti dei tre palestinesi responsabili dell'attentato il loro villaggio è stato circondato dall'esercito e le loro abitazioni saranno demolite è ancora da chiarire poi il giallo sulla morte del capo del sedicente stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi che sarebbe stato ucciso in Siria con un raid aereo notturno di due Sukhoi russi a sud di Raqqa il ministro degli esseri del Cremlino Lavrov ancora non conferma al 100% la notizia così come il comando americano informato regolarmente dell'azione secondo il protocollo concordato tra Mosca e Washington e non è la prima volta che al-Baghdadi viene dato per morto o gravemente ferito ma la diretta ammissione dei vertici russi a 20 giorni di distanza i dettagli sulle circostanze e la diffusione di immagini rafforzano le probabilità di un successo pieno del raid adesso dobbiamo raccontarvi una storia abbastanza incredibile per cui quegli strani meccanismi che possono accadere soltanto nel sud Italia in cui l'abusivismo edilizio sia in qualche modo sublimato in edilizia popolare nel senso che è stata approvata una legge regionale che permette la riconsegna agli abitanti e possessori di quelle case delle abitazioni in realtà abusive che sarebbero potuto essere distrutte e non si tratta di poche abitazioni in totale le case edificate nella località di cui vi stiamo parlando che è Casal di Principe sono oltre a Casal di Principe il cemento abusivo si trasforma in costruzione legale resteranno in piedi 2000 case costruite fuori dalle regole su molte delle quali pende un ordine esecutivo di demolizione con sentenza definitiva di condanna per reati edilizi eppure nessuno di questi edifici verrà abbattuto lo ha stabilito una legge regionale che sana tutte le costruzioni abusive del comune casertano consentendo inoltre a chi le ha costruite senza rispettare le norme edilizie e paesagistiche di ritornarne in possesso le linee guida del provvedimento verranno tracciate a settembre ma intanto si fermano le ruspe il sindaco di Casal di Principe Renato Natale ne fa un problema di costi e disagio sociale lui che per anni si è battuto contro la camorra e l'illegalità oggi è costretto a tollerare l'abusivismo nel tentativo di far quadrare le casse comunali e allo stesso tempo rispondere alle esigenze dei cittadini di Casal di Principe nessuno di questi proprietari spiega il primo cittadino può permettersi di pagare il costo dell'abbattimento della propria abitazione abusiva quindi per legge sarebbe il comune a doversi accollare le spese ora per ogni caso io devo spendere 100.000 euro quanto ne posso abbattere in un anno che forza posso avere taglio tutti i servizi sociali taglio i punti licenze a persone che posso raccolare due tre e quanto arriverò a 200 per arrivare a 200 o addirittura per arrivare a 1.500 o 2.000 che calcoliamo essere presenti nella città ciò ora hanno 2.000 anni che ne sono 1.500 anni 1.000 anni nel tempo dell'impero romano per chi ha costruito queste case è prevista una penalizzazione secondo quanto stabilito dal provvedimento il bene viene sottratto diventa proprietà del comune che a sua volta poi restituisce al costruttore abusivo dietro un contratto di affitto o di vendita un po' come i beni confiscati alla camorra che vengono riutilizzati per fini sociali il fatto è che i costi di abbattimento sono alti ma chi ha consentito la costruzione di migliaia di edifici abusivi chi ha controllato in 30 anni insomma manca sempre un soldo per fare una lira sembra dopo di noi ospite 8 e mezzo Stefano Fattor presidente di Eco Center Marika Di Pierri Dorana Mandrelli Fuxas noi ci fermiamo e torniamo per gli aggiornamenti tra poco eccoci nuovo in diretta non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi vi lascio 8 e mezzo con Lily Gruber vi ringrazio per l'attenzione se volete ci vediamo domani poco prima delle 20 buona serata grazie a tutti